Abbiamo una logistica 4.0, evadiamo il 96% di ordine nelle 24 ore. I prodotti che escono dal Sorma sono curati veramente in maniera maniacale. Poi, non per ultimo, il terzo pilasso sono le persone. Quindi prima la soddisfazione è vedere ogni collaboratore Sorma soddisfatto e tranquillo della maniera di operare che più è congeniale. Asportazione trucciolo. Se sai di cosa sto parlando, sai quindi cosa significa lavorare nel metalwork, in particolare in quest'ambito, oggi voglio parlarti di un'azienda particolarmente forte in questo settore. Ho avuto il piacere di intervistare uno dei manager, Armando Lastella, che mi ha spiegato che cosa trovi di interessante in questa opportunità se stai valutando un avanzamento di carriera. Quindi ti consiglio di guardare questa video intervista, alla fine della quali ti darò anche le informazioni per poterti candidare. Sei un agente, venditore e un professionista della vendita? Benvenuto su tuoagente.com, dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Buongiorno a tutti, oggi sono qui con Armando Lastella, che è direttore vendite del comparto meccanica di Sorma S.P.A. Italia, ovviamente. Benvenuto Armando. Grazie, Nicola. Grazie per la possibilità di questa video intervista. È un piacere. Allora partiamo subito appunto a raccontare un po' questa realtà. Ti chiedo, perché il cliente sceglie proprio voi? Sorma è una realtà che conta tre divisioni, ma oggi siamo qui per parlare appunto della meccanica. È il segmento, diciamo, dell'asportazione truce, lo che ci interessa. In realtà che ha sempre basato le proprie fondamenta su tre fattori determinanti. Il primo è l'innovazione tecnologica, il secondo punto è il servizio al cliente, poi non per ultimo il terzo pilastro sono le persone. Noi abbiamo due tipologie di distribuzione. La prima sono i rivenditori e poi ci sono i clienti utilizzatori finali. Il rivenditore sceglie Sorma per diversi motivi. Innanzitutto perché abbiamo un codice etico davvero, davvero importante, che il cliente e il rivenditore deve lavorare in tranquillità. Quindi loro li formiamo, li affianchiamo sul territorio, li mettiamo a disposizione i tecnici. Per quanto riguarda invece l'utilizzatore finale, il nostro tipo di vendita è completamente consulenziale. Bene, quindi essendo che uno degli elementi fondamentali per Sorma è appunto la consulenza e il rapporto che riuscite a creare con il vostro cliente e di conseguenza sono le persone ad essere loro stesse un vostro plus, ti chiedo allora quali sono le caratteristiche delle persone che in questo momento state cercando? Cerchiamo innanzitutto una persona che provenga già dal settore asportazione e truccelo, quindi che abbia lavorato in officina oppure che stia già operando nel settore come venditore, una persona che abbia almeno un'esperienza da junior. Tra il suo skill posso citare, sta ad impegnarsi, di studiare, identificarsi come un imprenditore, non solamente come una persona che smarca dell'attività quotidiana in maniera automatica. Deve essere una persona che sia disponibile a viaggiare, perché speriamo comunque in prossimamente di fare ancora delle fiere, deve dare disponibilità alla formazione e al lavoro di team. Noi poi abbiamo dei diversi piani di carriera, quindi junior, senior o care management, e quindi sono dei percorsi di carriera comunque già definiti al lato dell'assunzione. Ti ringrazio Armando per aver risposto alla mia domanda, ma adesso ti vorrei chiedere in che modo rendete il vostro collaboratore forte sul mercato? Ad oggi i commerciali sono tutti dipendenti innanzitutto, quindi a contratto commercio, tredicesima, cattordicesima, maturano delle previsioni secondo il fatturato, posto che ci sono dei premi di percorso, nel momento in cui un venditore che non abbia, diciamo così, la capacità di portarsi dietro il fatturato dell'esperienza precedente, noi comunque andiamo a compensare con dei minimi garantiti. Quindi c'è un periodo sicuramente di tutela che normalmente dura 24, 86 mesi. Bene Armando, ti faccio quest'ultima domanda. Perché un profilo meritevole, quindi con le caratteristiche che abbiamo raccontato, dovrebbe seriamente valutare questa opportunità? Guarda, la filosofia aziendale Sorma ha da sempre avuto l'ambizione di costruire e di mantenere relazioni a lungo termine tra le persone, sia che siano collaboratori che siano clienti. Per noi questo è un po' una scelta etica che, mi permetto di dire, diventa poi anche un fattore competitivo e di distinzione, è sicuramente importante. Ad oggi il tasso di turnover degli agenti è molto basso. Abbiamo per esempio persone che vanno in pensione con noi, venditori che sono da 20, 22 anni in Sorma. Bene Armando, ti ringrazio per averci descritto la realtà di Sorma e a te come anche a chi ci sta guardando auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, grazie a te Nicole. Buona giornata.